Parliamo di Blue Beetle. A questo giro un applauso a Blue Beetle e alla DC, davvero, mi mancava questo tipo di cinecomic e finalmente è arrivato, o meglio è tornato. Devo dirla tutta, ovviamente non è che attendessi questo film, anzi probabilmente era uno dei film per cui avevo meno hype in assoluto quest'anno, almeno sul front cinecomic. In realtà c'è anche Aquaman e Lost Kingdom, quindi a parità con il secondo di Aquaman. Fatto sta che non avessi così tanto hype, forse solo un po' di interesse, dato che sotto sotto in qualche modo sapevo che visto tutto questo non interesse verso Blue Beetle, forse si sarebbe rivelato qualcosa di interessante. Risultato, bene, è una delle più grandi sorprese di quest'anno. Non perché sia chissà che grandissimo film, è comunque un cinecomic molto semplice e standard, anzi, proprio per questo, è proprio questo il motivo per cui lo reputo così interessante e divertente soprattutto. Premessa, se non avete visto gli altri video e recensioni, io sia Shazam che Shazam Fury of the Gods, sia The Flash, quest'anno li ho apprezzati, sono dei miei guilty pleasure del 2023. Ne riconosco tutti i problemi, soprattutto in Shazam, con vari Deus Ex Machina e Wonder Woman in generale, però sicuramente non li disprezzo, anzi, sinceramente qualche rewatch lo farei anche tranquillamente. Per quanto riguarda invece Blue Beetle, finalmente posso dire che no, mi è piaciuto e non è un guilty pleasure, perché la qualità comunque l'ho sentita. Qualità, ripeto, molto standard, qualcosa di molto semplice e quindi ottimo. Niente multiverso, niente 94 personaggi nel primo film, una semplice origin story, che contiene un origin story, guardate che sorpresa. Ultimamente è una cosa insolita, sembrerebbe. Certo, adesso il DC Extended Universe, dopo Aquaman, dopo dieci anni precisi, chiuderà, almeno sembrerebbe essere così, per poi arrivare al DCU nel 2025, quindi ci sarà un anno di stacco se non contiamo l'uscita di Creators Commandos, che dovrebbe uscire nel 2024, ma a luglio 2025, poi, in caso dove non dovesse essere rimandato, arriverà Superman Legacy e poi ci saranno tutti gli altri film e serie del DCU. A me dispiacerebbe non rivedere Blue Beetle, a tal proposito è entrato nel discorso di prepotenza proprio James Gunn, dicendo che Blue Beetle non sarà il primo film del suo DCU, ma sarà il primo personaggio del DCU. Ok, significa qualcosa effettivamente se ci ragioniamo, quindi rivedremo Blue Beetle, lo rivedremo, ma a quanto pare questo film verrà cancellato dal canone, non lo so. A me sinceramente fa piacere rivedere il Blue Beetle di Xolo, Mariduena, se non sbaglio si pronuncia così il suo nome, che comunque conosco già da Cobra Kai, è una promessa, secondo me, del mondo del cinema, quindi spero che questo film in qualche modo lo lanci anche sul grande schermo, oltre che sul piccolo schermo. Poi parliamo appunto del lato guadagni e successo di Blue Beetle, perché c'è un piccolo discorso da fare, fatto sta che appunto sembrerebbe essere un futuro personaggio del DCU. Ora, in qualche modo io credo che lo rivedremo, quindi magari anche con qualche rivelazione, che naturalmente non svelerò in questa parte del video senza spoiler, poi ne parliamo più tardi, si potrebbe organizzare qualcosa di interessante nel nuovo universo, ma adesso parliamo in generale del film. Come sempre però, prima di iniziare, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Twitter, che ora si chiama X in realtà, Letterboxd, sia su Instagram che naturalmente su Letterboxd ci sono le mini recensioni, che faccio subito dopo essere uscito dalla sala o dopo aver visto un episodio o un'intera serie, e trovate anche il link di Pampling, sito di t-shirt e articoli nerd, dove trovate tantissimi design per t-shirt, poster, zaini, e chi più ne ha più ne mette davvero tantissima roba, e con il codice ILPENSIERO4 avrete la possibilità di inserire un paio di calze nel carrello, e le calze vi arriveranno a casa spendendo 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Ma parliamo di Blue Beetle. Come ho detto è un film molto molto semplice, ci sono elementi da tantissimi altri cinecomic, e forse proprio per questo comunque ho avuto l'impressione di aver già visto lo scheletro del film. Ci sono elementi dagli Spider-Man di Raimi, ci sono elementi dagli Spider-Man in generale, diciamo, soprattutto in realtà quelli dell'MCU, quindi quello con Tom Holland, ci sono elementi da Iron Man, ci sono elementi anche da Green Lantern, dal film con Raya Reynolds, oddio, però ho davvero avuto l'impressione che fossero davvero tante parti di tanti film fuse in un unico prodotto. Fuse bene però, perché infatti, sì, ho visto le parti di Spider-Man, ho visto le parti di Iron Man, anche di Green Lantern, ma questo è Blue Beetle, e io ho percepito Blue Beetle, ho percepito un nuovo, tra virgolette, supereroe, ho percepito una nuova storia, che verrà cancellata o no, non lo so, non mi interessa, poi vedremo nei prossimi decenni, nei prossimi anni, magari con Booster Gold, qualcosina di interessante si può organizzare, e per sua natura, appunto, essendo un origin story così lineare, così standard, il film risulta in qualcosina prevedibile. Ci sono alcune parti prevedibili, una parte del finale è totalmente prevedibile, almeno dal mio canto, con qualche piccolissimo indizio, ho lasciato quella in qualche scena, il villain, queste robe, comunque, sono cose a cui si arriva facilmente, perché, appunto, segue uno scheletro già prescritto, prescritto fin dall'inizio, scritto proprio dai primi minuti, dai primi minuti del film capirai come andrà a finire. Capisci tutti i ruoli che avranno i personaggi, non solo dal trailer, che comunque non svela tantissimo, il trailer, dice poco, è una cosa buona, ma allo stesso tempo non così tanto, perché magari non ha attirato tanta gente in sala. Fortunatamente, almeno per me, perché il film mi è piaciuto, fortunatamente un po' di gente in sala c'era, ero nella sala XL, non era piena, naturalmente, ma neanche vuota, come mi aspettavo, c'era un po' di gente, e l'ho visto a un orario insolito, non è il solito orario in cui tutti vanno in sala, io solitamente ci vado di pomeriggio a vedere film per poter fare magari la recensione, in ogni caso, appunto, un po' di gente in sala c'era. Il film ha un budget di 104 milioni di dollari, stando a deadline, non 130 milioni come era stato detto in precedenza, 104 milioni, e secondo me la possibilità di fare almeno il doppio di questo budget ce l'ha. Blue Beetle potrebbe fare almeno il doppio, quindi un 208 milioni. Speriamo che arrivi anche alla regola del 3, per riprendere un po' i soldi dal The Flash, che ha fatto 280 milioni con un budget di 350 milioni, quindi non è nemmeno rientrato nei costi, e vabbè, ripeto, a me The Flash non è dispiaciuto così tanto, mi ha divertito, ne riconosco tutti i problemi, un po' mi dispiace appunto di questa enorme perdita, ma effettivamente il film è quel che è. Ma tornando a Blue Beetle, io ripeto che qualsiasi cosa di questo film può essere giudicata come la più prevedibile del mondo, ma per me non è un problema. Qualche colpo di scena il film lo riserva anche qualcosa di intiserato, diciamo, all'inizio, ma comunque una cosa a cui non si arriva subito. Del resto davvero molto molto lineare. Però vi mentirei se vi dicessi che con questa linearità, con questa standardizzazione di questo film, mi sono annoiato. No, per niente, anzi mi sono molto divertito, in alcune parti mi sono anche emozionato, e il divertimento non comprende solo, non è indirizzato solo alla comicità del film, che funziona nella maggior parte dei casi, le battute sono per tutti più o meno, ci sono le battute un po' più adulte, le battute più infantili per far ridere i bambini, ma ovviamente il divertimento comprende anche le scene d'azione, che sono dirette alla bene il meglio, comunque non sono chissà che grandissime scene, una soprattutto mi ha un po' disorientato, ma del resto sono comunque facili da seguire. Ci sono tra l'altro alcune coreografie in alcuni combattimenti che, wow. Quest'anno la DC al cinema sembra essersi concentrata così tanto sul concetto di famiglia. In Shazam, vabbè, c'era proprio la Shazam Family, in The Flash c'era tutta quella roba della madre, quindi riunire la famiglia, e qui la famiglia gioca un ruolo importante. Nonostante appunto gli altri due film non mi siano dispiaciuti, non voglio dire più mi sono piaciuti, perché comunque ho fatto qualche rewatch e noto sempre di più i problemi, magari poi arriverò anche a non farmeli più piacere, non lo so. Però Blue Beetle è appunto quello che funziona di più, tra tutti, sia sul lato uscita proprio cinematografica, ma anche proprio sul concetto di famiglia, che qui è proprio centrale. Su questo fronte in realtà nel trailer a sto punto c'è un piccolo spoiler con Carapax che dice a Jaime che l'amore che prova per la sua famiglia lo rende debole, e lui risponde che in realtà lo rende forte. Quella è effettivamente una scena importante, però è stata un po' decontestualizzata e ci può stare. A proposito di famiglia, praticamente ho provato un po' la stessa sensazione che ho avuto guardando Miss Marvel, a me è una serie che comunque, tralasciando il finale, è piaciuta, siamo sul lato Marvel questa volta, ma lì la famiglia era, nonostante tutto, importantissima, ed erano personaggi tutti, diciamo, molto caratterizzati, ti facevano entrare in empatia con quei personaggi. E stessa cosa qui, ho avuto letteralmente la stessa sensazione. Si empatizza persino con il membro della famiglia più inaspettato, per esempio la nonnina. Naturalmente personaggio preferito è lo zio Rudy, ma credo che non ci sia altra risposta alla domanda. Il personaggio preferito di Blue Beetle, oltre magari, vabbè, a Blue Beetle, ma lo zio Rudy supera anche Aime, per me, almeno, per quanto mi riguarda. E gli altri personaggi, tralasciando appunto i villain, che sono più di uno, non c'è solo Karapax, che è il braccio, la forza della mente criminale, che è la sorella di Ted Kord, ovvero il secondo Blue Beetle nei fumetti. Qui abbiamo appunto la sorella, che è il capo delle Kord Industries, ed è la cattiva, la cattivona, che vuole fare cattiveria, appunto, con l'aiuto di questo Karapax, nome naturalmente scelto a regola. Abbiamo poi la figlia di Ted Kord, che è appunto la nipote della villain, che aiuta il nostro protagonista. Si vede nel trailer che è proprio lei a donargli lo scarabeo, che poi lo trasforma nel Blue Beetle. La scena di trasformazione è veramente divertentissima. Ma c'è anche un po' di inquietante in quel che succede al corpo di Aimee in quel momento, soprattutto per quello che lo circonda, la famiglia che si sta veramente spaventando di vedere praticamente il figlio indemoniato. E poi parte per lo spazio e succede un casino, quello che si vede nel trailer succede veramente all'inizio. Tralasciando poi tutte le scene d'azione che arrivano, tutti i combattimenti, arriviamo direttamente al finale. Non è che ci siano chissà che grandissime scoperte nella metà, se non un colpo di scena di cui naturalmente parliamo dopo. Il finale, come ho già detto, è abbastanza prevedibile, soprattutto con una certa inquadratura, ma nonostante fosse molto prevedibile, è molto soddisfacente, d'altra parte. Nel film ci sono due scene post-credit, una è importante per il futuro, se ci deve essere un futuro di Blue Beetle nel DCU, o comunque un futuro in generale come un Elseworld, non lo so. A questo punto, a detta di James Gunn nel DCU, qualcosa si farà, ma non so se continueranno a seguire di questa scena post-credit. La seconda invece vi direi tranquillamente di alzarvi, non aspettarla, perché è veramente inutile. È un rimando a qualcosa che succede per qualche secondo nel film e non serve a nulla. Se volete rimanere seduti per completezza, fatelo, ma veramente è inutile. Mi sono anche un po' arrabbiato per aver aspettato così tanto per una scena così... Naturalmente sto esagerando, non mi sono realmente arrabbiato. Però appunto la prima scena è veramente interessante, anche perché, ripeto, si può... Almeno ho avuto un'idea su quel che si potrà fare poi nel... nel... nel DCU, all'interno del... del nuovo universo di James Gunn. È Peter Safran. Diciamo tutti di James Gunn, ma c'è anche Peter Safran, che fa la parte un po' più produttiva, marketing... Ci sta anche lui. Ma ragazzi, se ancora non avete visto Blue Beetle, vi consiglierei di uscire dal video, perché gli spoiler inizieranno fra poco. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione ci sono tutti i link importanti tra i miei social, Instagram, TikTok, Twitter, X... Devo abituarmi a chiamarlo X. Appunto Letterboxd. E c'è anche il link di Pampling, sempre il codice Il Pensiero 4, per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis. A scelta che, naturalmente, vi costeranno 0 euro. E ragazzi, gli spoiler iniziano tra... 3, 2, 1. Come primissima cosa vorrei parlare proprio della famiglia di Aime, di Aime Reyes, che qui è messa a dura prova per diversi problemi economici. Fin dall'inizio questa cosa viene tiserata, viene tiserato anche il problema al cuore del padre, che poi ritornerà ovviamente quando morirà, morirà di infarto. E la scena nell'aldilà, nell'aldilà messicano, comunque quello che si vede anche in Coco, ecco, sembra molto quella cosa. La scena in questione è veramente bella. Tralasciamo la CGI, di cui non ho parlato effettivamente nella parte no spoiler, perché nonostante fosse un film indirizzato per HBO Max, adesso si chiama Max la piattaforma, ma prima era di HBO Max, la CGI è buona, anche molto meglio di quella di The Flash, in confronto. 350 milioni spesi in quel modo, 104 milioni spesi così. Nella scena nell'aldilà, il padre ha qualche problemino di CGI, quando scompare, sembrava molto in stile figlio di Heimdall in Thor Love and Thunder, la testa fluttuante, ma tralascio quella roba, perché nel resto la CGI è buona. Si vede quando la tuta non è in CGI, perché per la maggior parte dei casi, fortunatamente la tuta era lì, fisica, ce l'aveva addosso Cholo Mariduenia, devo imparare anche il nome di questo attore, però ripeto, per un film del genere niente male la CGI. Questo è effettivamente uno dei colpi di scena funzionali del film, non l'avrei pensato in anticipo, nonostante appunto fosse tiserato già dall'inizio. Poi, altro colpo di scena, il fatto che anche in questo film, prima, è esistito un altro, un vero Blue Beetle, perché qui non viene nominato, ahimè non viene nominato come Blue Beetle ancora. Non ricordo se sul finale poi vi esce il nome un po' in stile Black Adam, ma non è stato chiamato mai così, perché effettivamente è esistito un Blue Beetle, che è appunto Ted Kord, quindi hanno tenuto il fatto che Ted Kord fosse anche lui un supereroe, non è entrato in contatto con l'alieno, appunto l'alieno robotico, lo scarabeo, però aveva, costruiva roba, essendo intelligente, essendo uno a capo appunto dell'industria, poi tutta la faccenda lì della famiglia Kord, sessista, robe in genere, non direi di parlarne, perché a sto punto forse un po' comprensibili le motivazioni da cattiva della Kord. Sul finale naturalmente avevo previsto che Carapax sarebbe diventato buono, comunque si sarebbe vendicato della Kord, che l'ha trasformato in un mostro, e succede, e l'idea naturalmente mi è arrivata quando con le inquadrature hanno indugiato su quella foto, che poi la Kord tiene in tasca e lui riprende robe vari, però il modo in cui finisce tutto, interessante. Un po' in stile Dr. Octopus appunto, però questa volta c'era un altro umano oltre che a Carapax. Esplode tutto. Tutta la Kord, la Kord letteralmente, è lo stesso Carapax. Tornando appunto a Ted Kord, abbiamo la prima post-credit, la mid-credit chiamata così, che ci svela che in realtà Ted non è morto, quindi c'è un altro Blue Beetle da qualche parte, e sono convinto, almeno penso, che questa post-credit sia stata voluta in qualche modo da, dal nostro James Gunn di fiducia, speriamo di fiducia per il DCU, per introdurre Blue Beetle all'interno del suo universo. Non so se mantenendolo con il volto di Ciolo Mariduena, accompagnato appunto da Ted Kord, che qui si vede solo in qualche quadro, non si vede in carne ed ossa, per poi arrivare appunto a collaborare magari anche proprio con lo stesso Booster Gold. Possibilmente Ted Kord e Booster Gold si conoscono in una retcon che avremo fra qualche anno, chi lo sa. Io intanto spero che rimanga veramente il Blue Beetle di Jaime Reyes, perché mi è piaciuto. È un film che mi ha conquistato, tra virgolette, proprio per l'essere così standard e semplice, lo ripeto dall'inizio del video, ma ragazzi, voglio sapere la vostra, quindi se avete visto il film, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, fatemelo sapere con un commento qui sotto. Io aspetto di sapere il guadagno, il successo che avrà questo Blue Beetle, sembra che guadagnerà un po' di più in confronto a quello che avevano prestabilito gli esperti, che appunto si accingono ogni volta a prevedere il guadagno di un film. Infatti qualche settimana prima dell'uscita avevano alzato un po' di più l'entrata al giorno d'apertura, il guadagno, fino a 33 milioni, ma vedremo fra qualche settimana. Veramente spero che almeno raddoppi il budget utilizzato. Ragazzi, vi ricordo ancora una volta in descrizione tutti i link importanti e niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!